Buon avvio, l'ultima serie, 800 uomini, 40 uomini, uomo veloce, la compiata bottiglioni, i piani della braviglianza odda 1874, decide di fare la propria serie, Siamo anche sulla filiera del rumbo della pedala B. Siamo anche la filiera del rumbo della pedala B. Siamo anche la filiera del rumbo della pedala B. Siamo anche la filiera del rumbo della pedala B. Grazie!